Ormai a fine mandato il rinnovo delle cariche si terrà a giugno per Giuseppe Notte è già tempo di bilanci. In cinque anni da segretario del locale circolo cittadino ha provato a rianimare il quasi esanime PD a Venafro. C'è riuscito? Ma questo non lo so, dovremmo chiederlo ai simpatizzanti del PD. Sicuramente posso dire che ci ho provato e ci abbiamo provato insieme agli amici. Non è facile in questa realtà fare un certo tipo di politica. Ripeto, ci abbiamo provato, abbiamo organizzato degli incontri, dei dibattiti, abbiamo approfondito delle tematiche, credo, abbastanza interessanti. Probabilmente non siamo immuni da colpe, abbiamo sicuramente delle responsabilità. Un solo esponente a Palazzo Cimorelli, ovviamente nelle fila dell'opposizione, un po' poco. Sicuramente. Lei apre un argomento dolente. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, però è andata così. Metteremo nel libro delle esperienze anche questa competizione elettorale e guardiamo avanti. Io mi auguro che possa esserci qualcuno interessato a portare avanti le attività del circolo. Io sicuramente farò un passo di lato, ma non abbandonerò la politica, come credo non l'abbandoneranno i miei compagni, perché la politica è una passione e quindi non possiamo archiviarla così. Una passione che a quanto pare non coinvolge i giovani, sono sempre di meno. Non solo a Venafro, l'amara considerazione. Io non credo sia un problema soltanto di Venafro, è un problema, credo, nazionale. La politica non incanta, la politica non fa appassionare i giovani, perché purtroppo è sempre più una politica tesa a raggiungere obiettivi personali e non collettivi, e giustamente non appassiona.